venerdì sera della scorsa settimana una residente di lucrezia rincasa e come sempre fa si concede qualche coccola con il suo amico quadrupide un bel micione dal nome serafico di basilico ma nota subito che qualcosa non va per il verso giusto il suo peloso amico non era reattivo come sempre anzi stava mogio mogio e rannicchiato in un cantuccio è il chiaro segnale che qualcosa doveva essere successo l'attenta padrona nota sul fianco destro il pelo macchiato di sangue e subito pensa a una zuffa tra gatti rivali magari per il territorio e allora la mattina seguente decide di portarlo dal suo veterinario di fiducia che approfondisce l'esame e fa una scoperta sconcertante io ho visto la sede sul fianco destro che era interessata da sta lesione ho rasato il pelo per capire un attimo però non c'erano i tipici segni riconducibili a lesioni da morsi di altre gatte sia perché non mordano normalmente sul fianco ma sul collo sulle zampe e sia perché c'era un unico foro allora io mi sono insospettito che potesse essere una ferita d'arma da fuoco e lei mi ha detto no ma impossibile io abito al centro di lucrezia per sicurezza facciamo una radiografia invece ho fatto bingo perché dalla radiografia è emerso proprio un proiettile lungo circa 9 10 mm largo 5 i tipici proiettili mi sono capitati già in passato da da flobert da fucile sono delle dei mono proiettili non è il pallino da caccia quello che fa la ruola la rosa e il problema è che questo proiettile si trova in una posizione molto delicata perché è a un centimetro in centimetro e mezzo dalla punta del cuore e quindi in questo momento si è incastonato tra la pleura e le costole e quindi è in una posizione diciamo precaria che per ora non è in immediato pericolo di vita l'animale infatti adesso è in terapia stiamo valutando la possibilità di estrarlo chirurgicamente cercando però di capire se l'estrazione può determinare o meno un ulteriore danno la cosa è stato un po il suo stupore perché insomma vuol dire che qualcuno gli ha sparato c'è stupore il fatto che adesso c'è qualcuno al centro di lucrezia perché questa signora abita al centro di lucrezia che o dal giardino dalla finestra non so da dove spara con dei con dei fucili è un proiettile del genere è andato bene semplicemente perché l'ha preso di diciamo dalla parte posteriore alla parte anteriore perché un proiettile del genere è in grado di uccidere anche un bambino una persona se va in certe sedi delicate del corpo quindi insomma sparare dalla finestra questa signora si è subito allarmata preoccupata è andata a fare denuncia e adesso speriamo che non si verificano più eventi del genere anche perché non solo per gli animali ma